Inter Juventus 4 a 4, post partita, subito, a caldo, partita folle, partita folle, senza senso, partita folle, partita incredibile, partita meravigliosa, a priori della fede del risultato, partita meravigliosa, una delle partite più belle, forse la più bella che abbiamo mai visto allo stadio, bellissima, meravigliosa. La Juventus fa 4 gol incredibili, fa 4 gol che arrivano tutte le azioni belle, costruite, dominate, dove abbiamo solo il classico dell'Inter, 4 gol, uno più bello dell'altro, abbiamo dimostrato di essere squadri, abbiamo dimostrato la grinta, la voglia, la fame, la capacità di reagire, la prima rimonta, la seconda rimonta, questo Juventus c'è ragazzi, c'è e come, questo Juventus è forte, questo Juventus può veramente luttare per questo progetto e io non sono convinto, perché oggi l'abbiamo dimostrato, oggi tu vai a San Silvio e dopo, ma se non sono buoni e dimostri che per lo scusato ti sei anche tu, una partita della Juventus da 10, ovvio non vinci, perché? Perché il 4-4 arriva tardi, perché poi loro si chiudono, ma da quando ti svegli per fare il 4-3, da quando entra il Juventus, da lì è senso unico, è senso unico, se il primo tempo è stato equilibrato, anche se l'abbiamo in Toro, in quel momento lì tu, domino, domine, l'Inter fa due gol, fa due gol belli, due, le fa due, gli altri sono rigoli, gli altri non sono gol, gli altri sono rigoli, vorrei star qui a far polemica, se erano o no rigore, della mia postazione ho il dubbio centrale, mi voglio appellare la buona fila del VAR, comunque, se non togliere che la Juventus, a San Silvio, domina fa 8 gol, l'Inter ne va due, più due rigori, c'è una grande differenza, l'Inter nel top, stato di forma in casa, noi nel peggior stato di forma fuori casa, l'Inter oggi, pareggiare, non si può accontentare, non si può accontentare, per il momento che avevano, non si può accontentare, non ha un bel risultato per l'Inter, mi dispiace, no, non ha un bel risultato, non ha un bel risultato, per Juventus è un bel risultato, ma non perché l'Inter è più forte da Juventus, no, 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 noi oggi vogliamo dimostrare di essere più forti mentalmente, sul campo, come gioco, come reazione, come squadra, come cuore, come grinta, come voglia, no, no, assolutamente no, la Juventus oggi porta a casa una grande prestazione, e quattro gol meravigliosi, e una partita di un'altra stanzia, l'Inter porta a casa un punto, io sono contento, fossi interista, non sarei contento, anche perché, dopo che vai in vantaggio sui rigori, e la ribalti con un rigore, e a un certo punto la chiudi con un gol, un insulso di Dumfries, che ha calcio, non sa giocare, e lo sanno tutti, e poi prendi due gol così, essere felice per l'Interista, non esiste, non esiste, detto questo, la Juventus, secondo me, ha fatto una top partita, ha dominato, e ha dimostrato di essere più forte in Italia, è più forte, senza progetto, contento, col sorriso, sempre la forza Juve, fino alla fine, la Juventus, ad oggi, è la favorita per questo spiudetto, e io ne rimango convinto, e io ne rimango convinto, sono stravolto ragazzi, stravolto, ma felice, felice perché abbiamo andato a me sotto il campionato, la Juventus, ciao, ciao belli.